Mi chiedono di pubblicizzare anche il corso di musica elettronica che sarà fatto per ragazzi under 23. Trovate tutte le informazioni sul sito o sempre scrivendo ad Elsa. Sarà un corso non tanto di musica elettronica, non sarà di mix o DJ, ma sarà un corso sulla creazione di particolari sonorità utilizzando software gratuiti come Pure Data. E una scheda di prototipazione, chiamiamola così, Axoloti. Pure Data ci dà un'estrema flessibilità, quindi riusciamo a creare suoni tipici di una volta e anche suoni nuovi e innovativi, più contemporanei. E appunto la cosa che mi piace è che comunque il taglio del corso è sempre hardware, ovvero con questa schedina Axoloti che adesso purtroppo non ho qui. Insomma ve la mostrerei, ma potete andare a cercarla su internet. Abbiamo la possibilità di portare tutto quello che facciamo su Pure Data in un ambiente appunto molto simile, che è quello di Axoloti e poi nell'hardware. Possiamo collegare potenziometri, possiamo collegare tasti e possiamo collegare anche qualsiasi componente elettronico, quindi se avete anche qua un progetto in mente possiamo provare a svilupparlo.